Congratulazioni, è un torello di quattro chili e trecento grammi. Grazie dottore, molte grazie. La gioia di un padre. Lo sconforto di chi deve nascondere il proprio amore. C'è in solo un voltare sfacciato. Una giovane donna cerca il calore di un affetto sincero in un mondo che le è ostile. Una nuova telenovela che va dritta al cuore perché tutti abbiamo una storia d'amore scritta nelle pagine della vita. Ogni giorno, da lunedì a venerdì alle quattordici, su Eurotv. Dottore!